Amici di Enjoy Television, 7.2 siamo a Sottomarina, siamo in diga, questo non è un appuntamento come tutti gli altri, questo è un appuntamento speciale perché qui quest'oggi Airplane Records e Jolly Roger gireranno il videoclip del loro ultimo singolo, si chiama Tell Me What The Fuck. Amici di Enjoy Television, 7.2 in diga, secondo appuntamento dell'estate, con noi Nicola Fasano, buongiorno. Ciao, ti piace la mia sciarpa? Molto, abbiamo fatto di una sciarpa a uno scialletto. Eh sì, c'è un po' di vento così. Stiamo coprendo, se no prendiamo freddo, non sia mai. Nicola, allora, 7.2 in spiagge, innanzitutto le tue impressioni? Allora, non è il mio voto in matematica, prima impressione perché c'avevo quattro, tendente a quattro e mezzo. Il posto è bellissimo, penso che la telecamera possa essere presa o spiaggia di me nel far capire la situazione. Siamo felicissimi di essere qua, abbiamo unito l'utile al dilettevole perché con la crisi bisogna fare tre cose in una. Stiamo girando il video del prossimo singolo di Tommy, mio, Luca Guerrieri, Steve Forest, con il feature di Matt Wise. E siamo contenti, insomma, di condividere questa cosa in questa spiaggia. A parte gli scherzi della crisi bisogna fare tre cose in una. Perché il 7.2? Guarda, allora, il 7.2 perché il pezzo è un pezzo che ha un testo triste. Quindi volevamo fare in controtendenza un'operazione allegra e non c'è niente di più allegro e divertente di una spiaggia con delle persone che chiaramente si fanno un beach party. In Italia purtroppo è sempre più raro questo tipo di feste ed è una constatazione. Bisogna andare nell'isola Baleari piuttosto che a Mykonos e vedere che ci sono ancora questi tipi di eventi che funzionano e che portano questi numeri di persone è bello e interessante. E perché no, è interessante metterlo in giro. Oggi verrà presentato il video qua in occasione per questo grande evento che è il 7.2. Dopo che si alterneranno naturalmente i piatti Tommy V e Nicola, Fasano, Steve Forrest e Luca Guerrieri che sono i DJ di fama internazionale. Abbiamo detto perché non girare il nostro video di questo nostro nuovo pezzo che è una collaborazione che vede A, USA, R&B, tutto insieme. E quindi abbiamo un po' improvvisato questa cosa ed è per noi, soprattutto per me, un onore partecipare a questa cosa che so che da due o tre anni sta spaccando. Sì, è un grande onore per noi avere fatto questo progetto con l'Airplane che per noi è stato sempre un riferimento e finalmente unire le energie porterà un grande risultato. che oggi, per quanto è difficile, qualsiasi tipo di business, la musica forse ancora di più, solo grazie a delle grandi sinergie, a delle grandi squadre, si possono ottenere buoni o ottimi risultati. Amici, Enjoy Television 7.2 in Viga, Sottomarina, Tommy V, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, siamo energetici oggi. No, però cercavo di starti dietro. Ma come no, devi girare un videoclip e non sei energetico. Non sei energetico, no, però ce la farò, dai. Allora, quello che succede qui, questo non è un 7.2 normale, è vero che il 7.2 è sempre un appuntamento molto atteso, è sempre un appuntamento dove i giovani vengono e 10.000 ragazzi ogni volta, ma oggi è particolare, si gira un nuovo videoclip qui, Tommy. Tu, Steve Forrest, Luca Guerrieri, Nicola Fasano e Matt Wise che canta. Matt Wise che canta. Allora, mi hanno raccontato un po' la trama della storia, come si intitola il video? Allora, tell me B-W-A-F, tell me what a fuck, però non si può dire what a fuck, tell me W-A-F sarà, quindi dimmi perché cazzo... Ma dimmi perché... Perché racconta di questa signorina che non si è comportata molto bene. Perché la scelta del 7.2, Tommy? Tanto perché siamo in casa, giochiamo in famiglia, è una festa che oltre ad essere geograficamente familiare per noi, sia per me che per Nicola, insomma, ma anche perché, insomma, è una circostanza abbastanza unica in Italia. Il 7.2 è una festa che comunque fa l'estate 10.000 persone, 10.000 persone tutte assieme dove le trovi. Bene, amici di Enjoy Television, per ora con Tommy vi è tutto, solo per ora, Tommy, perché saremo di nuovo presto insieme e avremo l'occasione per parlare di tutto il resto, di Ibiza, dell'estate, del Blue Marlin, di tutto quanto. Non mancherò, non mancherai. Non mancherò.